Ciao a tutti! Oggi prepareremo lo zabaione. Il tempo di preparazione della ricetta è di 30 minuti circa. Gli ingredienti sono zucchero, tuorli d'uovo e marsala. Andiamo via alla ricetta. Iniziamo la ricetta posizionando la farfalla sulle lame. Mettere lo zucchero, i tuorli d'uovo ed azionare il bimbi per 5 minuti, 37 gradi, velocità 3, senza misurino. Iniziamo la ricetta. Le uova sono ben montate. Adesso sempre con la farfalla inserita. Chiudere con il coperchio senza il misurino ed azionare il bimbi per 7 minuti, 80 gradi, velocità 3. e dal foro del coperchio man mano aggiungiamo il marsala. Iniziamo la ricetta. Iniziamo la ricetta. Iniziamo la ricetta. Lo zabaione è pronto. Trasferire in delle coppette, lasciare intiepidire e servire. Zabaione. Grazie e alla prossima ricetta. Iniziamo la 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 ricetta.